Buonasera, generale, stia attento al buio per le scale. Che tempi! C'è ma pazienza, comunque a momenti dovrebbe tornare la luce, so quasi le 19. Vieni, Marianna! Proprio simpatiche qui, suore. E che ordine hai detto che erano? Le carmalità ne scaltre, ecco un po' sul sole. Vieni con me, Marianna. Che gente! Vieni, bambolona, bella mia. Vieni qua. Ma cos'hai che dici? Il portiere può dirlo a tua moglie. Mia moglie? No! Fammi luce, te schiamo! E quanti santi? E con i santi? E con i santi? Ah, lo so. Scusi, generale, ci aspetto un momento. Mi sei maledetta, non chiamatla scezzore. E come faccio adesso? Io dove mi nascondo? Generale, ma il cane, il cane viene con noi? Certo. Perfetto. Prego. Bambolona. Grazie. Prima io, poi i cani, poi i generali. Scusi, generale, che piano va? Secondo. Guarda che io non sono mai secondo a nessuno. Allegria! Io vorrei essere fra loro! Mi scusi, generale, ma le assicuro che mi vengono anche meglio. Questo è il secondo piano, avanti se è comodo. Ci scusi, eh? Ciao, generale! Ti vediamo, generale! Vieni qua, vieni giù che facciamo delle bellezze. Ma, Domenico, ma pensa a Elena. Ma chi se ne frega? Ma come? Se lei mi ha detto che sei tutto casa e chiesa. È casino. Stop! Scusa, non credevo di averti fatto così male. Pistare, mi ha rotto un palpaccio! Mi ha rotto un palpaccio! Ma chi? Ma cosa fai te lì? Niente. Tutto quel tuo ragomitolato per fare il topo? Sì. Guarda che io ti rompo, hai capito? Ti spezzi sette la sale io! Ma da dove sei piovuto? Dal cielo? Sì, dal cielo, la troppa della scensore! Amore, lo sai che è andata benissimo l'audizione? Ah, questo bisogna veramente dirlo, amore. È andata veramente molto bene. Devi essere contento dell'audizione, amore. Passati fermo con le mani, qual è l'amore? Non ti permettere mai più! Se posso aiutare? Non mi devi aiutare, se posso è tuo. Senti, cara, prendi la bottiglia. Prendi le chiavi, andrà dentro. Andrà dentro, signora. Perché io devo fare quattro chiacchiere con il signor Domenico. A quattro occhi. Guarda che ti chiamo per nome, signor Domenico. Domenico, che abbiamo da fare? Andate a morire a Mazzetti. Gabriele, calmati. Sennò poi chissà che potrebbe dire, Elena. In fondo stavamo solo scherzando. Scherzando? Lo conosco io a questo come scherza. Cicci, quando fa lo starnuto. Lascia perdere. Starnuti, starnuti. Ci parlo io con sua moglie. Lascia perdere. Va bene, allora ti aspetto. Vado a fare un bagnetto e poi ti preparo una cenetta con i fiocchi e poi, e poi... Andiamo tutti a fare questa cenetta con i fiocchi, e poi, e poi, e poi ti spezzo la noce a capogoglio. Cammino! La 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 la... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm...